professore oggi qui al Policlinico Tor Vergada si svolge un convegno molto importante sulle nuove frontiere della chirurgia urogenitale ma le volevo chiedere perché ancora se ne parla così poco perché anche gli uomini diciamo tendono un po a non parlare di questi problemi ma intanto la chirurgia ricostruttiva dell'apparato genitale ha ancora come dire qualche tabù nel senso quegli interventi che vengono praticati vengono praticati per patologie che sono patologie estremamente importanti ed invalidanti per l'uomo quali l'incontinenza urinaria quale la disfunzione rettile l'impotenza l'impotenza grave quindi l'utilizzo di protesi per risolvere questa tipologia di problemi indubbiamente crea qualche problema anche al paziente stesso però stiamo assistendo negli ultimi anni ad un miglioramento di questa situazione per cui sempre molti più uomini si rivolgono a noi per cercare di risolvere problemi collegati a questo ma se mi consente io vorrei dire che l'importanza del convegno che si sta che si sta organizzando che stiamo facendo oggi è legata soprattutto al fatto che per la prima volta in Italia si parte si parlerà di trapianto del pene una condizione deturpante del pene per motivi iatrogeni cioè dovuti ad interventi chirurgici per patologia malformativa determina uno stato psicologico e sociale veramente molto molto imbarazzante per un paziente soprattutto se è giovane e non meno di quanto può essere un volto deturpato o la perdita di un braccio o la perdita di una mano diciamo che le prime esperienze hanno dimostrato che il trapianto di pene è un trapianto possibile tecnicamente e sta soltanto a noi trovare per la delicatezza dell'intervento la maniera etica più corretta per portarlo avanti grazie a tutti Grazie.